Sì. Cristiana Capotondi è incinta. La popolare attrice aspetta il suo primo figlio dal compagno storico. Il conduttore e imprenditore Andrea Pezzi. La notizia è stata lanciata per prima da Diva e Donna e ora trova conferma sulle pagine del settimanale Di Più. Dove nell'ultimo numero è presente un'intervista al pasticcere amalfitano Nicola Panza. Quest'ultimo conosce da anni la Capotondi e ha avuto modo di incontrarla anche di recente con il pancino che cresce. L'esperto di dolci ha spiegato alla rivista edita da Cairo editore che Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi frequentano da anni la sua pasticceria. Tra le più rinomate ad Amalfi. Qualche settimana fa la coppia si è recata nel locale per un dopocibio. Ho proposto a Cristiana di abbinare il dolce che aveva ordinato al limoncello ma lei mi ha risposto. Non posso bere alcolici. Sto aspettando un bambino. Era felice e anche il suo compagno lo era. Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato la gravidanza. La coppia è molto riservata. Nonché è una delle più solide e affiatate del mondo dello spettacolo. Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi che non sono attualmente sposati si amano dal 2007. Tutto è iniziato grazie ad un viaggio in aereo anche se i due si erano già visti prima in un programma televisivo. Una lunga storia d'amore quella tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi che, come capita spesso, ha vissuto anche dei brutti momenti di crisi. Ad un certo punto, come confessato dalla stessa attrice che ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina, la gelosia l'ha portata ad allontanarsi. La Capotondi era diventata troppo insicura e possessiva nei confronti del suo partner e per superare questo momento turbolento hanno adottato la tecnica della castità. Per mesi non si sono neppure sfiorati e hanno cercato di migliorare il loro rapporto in altri ambiti. Una strategia che si è rivelata azzeccata e oggi Cristiana e Pezzi sono più uniti che mai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.